Presidente Borgia, anche questo è il ruolo della BCC, della banca di credito, supportare le idee che fanno bene al territorio abruzzese? Sì, perché questa è una ex cassa rurale artigiana, per cui in tutte le iniziative capaci di promuovere i prodotti genuiti del territorio ci deve essere e lo deve fare non con uno spirito di obbligo ma con uno spirito propositivo perché può essere questo lo strumento per far nascere un volano naturale di crescita e sviluppo dei territori e anche di accrescimento della base occupazionale. Le cattedrali del deserto del passato, la costruzione di industrie che possono avere un mercato fluttuante hanno mostrato che nel tempo non tengono queste realtà che possono unire le produzioni genuine anche ad un fenomeno agrituristico strutturale e solido sono veramente il futuro. Noi ci crediamo e intendiamo fare delle scommesse sia come banca sia a livello di capogruppi CREA. La natura è vero, hai fatto bene a precisare questa cosa perché è la prima volta che faccio un libro dedicato alla natura perché come ho detto anche in conferenza stampa io due anni fa conoscendo una persona di Loreto mi sono innamorato di quella persona e di Loreto, poi è rimasto solo l'amore per Loreto, va bene così, quindi di conseguenza ho iniziato a apprezzare il territorio a conoscere le piante di olivo che sono fondamentali per il territorio. Pian piano ho raccolto queste immagini e appena ho visto che queste immagini avevano creato un bel archivio fotografico ho iniziato a realizzare l'idea di fare questo libro fotografico e oggi dopo due anni siamo qui a presentarlo. Circa 200 foto ma qual è la foto più importante che ti ha fatto capire poi che queste foto dovessero sfogare in un libro? Questa persona di 90 anni Loreto che per pesare le olive che stavo raccogliendo usava ancora una bilancia non mi ricordo forse si chiama stadera, non vorrei sbagliare, una vecchia bilancia e lì ho visto che per lui 90 anni continuava ancora a coltivare queste piante, a raccogliere olive il tempo si era fermato ecco, quindi e lì ho visto quest'amore di questa persona che ha tramandato a me di conseguenza ho trasmesso le fotografie. Non ti fermerai perché hai in mente anche una mostra fotografica itinerante per tutta, sicuramente l'area vessina ma perché non l'abruzzo di queste fotografie? Certo, 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 questo libro è iniziato, questa idea è iniziata con il libro però vuole proseguire con una mostra fotografica itinerante già sono in comunicazione con tanti sindaci, tanti assessori, varie località abruzzesi perché ricordo in questo libro che si chiama L'Olio, L'Oro Abruzzo ho fotografato tutte le piante di olive in tutte e quattro le province quindi all'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo quindi voglio coinvolgere anche in questa mostra fotografica itinerante tutte le varie località che mi daranno l'opportunità di presentare questa mostra. In un libro dove ci sono anche dei testi, testi importanti per far capire l'importanza di questo olio di questo oro giallo che ha fatto la ricchezza dell'Abruzzo Certo, io non sono un tecnico, io come l'ho detto anche in prefazione fino a due anni fa non avevo mai visto una pianta di olive da vicino non avevo mai visto un olive attaccato alla pianta perché io vivendo per vent'anni al nord, pur essendo i pescari io vedo le piante di olive solo dall'autostrada e quindi io non sono per niente un tecnico ora un po' sono i nomi delle olive ma certo non voglio avere la presunzione di dire che sono un conoscitore sono appassionato, quando vedo le piantagioni mi fermo, le guardo, le osservo e quindi mi sono avvalso dell'aiuto di amici, colleghi, giornalisti e scrittori che quando sono interpellati chiedendo di voler partecipare ad aiutarmi con questi testi a titolo amichevole hanno apprezzato questa idea l'hanno fatta anche loro e mi hanno aiutato affinché questo libro abbia una valenza più scientifica e più di rilievo a titolo amichevole iscriviti al nostro canale iscriviti al nostro canale